Ora facoltà di intervenire il relatore deputato Ivan Scalfarotto, prego. Grazie, signora Presidente, signora Vice Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Matthew Shepard nacque a Casper, nello Wyoming, il primo dicembre del 1976. Era il primo figlio di Dennis e Judy Shepard. I suoi genitori vissero per un certo periodo in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava per una compagnia petrolifera. Così Matthew si diplomò presso la scuola americana in Svizzera. Poi si iscrisse a Scienze Politiche nell'Università dello Wyoming. Suo padre lo ricorda come un giovane uomo ottimista e aperto. Subito dopo la mezzanotte del 7 ottobre 1998, Matthew, che aveva allora 21 anni, incontrò in un bar Aaron McKinney e Russell Henderson. Shepard chiese loro un passaggio a casa. Fu derubato, picchiato selvaggiamente, legato a staccionata e lasciato lì a morire. Matthew fu trovato 18 ore dopo, vivo in stato di incoscienza, da un ciclista di passaggio, che inizialmente lo aveva scambiato per uno spaventasseri. Aveva una frattura della nuca fino a oltre l'orecchio destro. Parte del cervello era stata danneggiata in modo tale da risultare compromessa la capacità del suo corpo di regolare il battito cardiaco, la temperatura corporea e altre funzioni vitali. I medici giudicarono le sue lesioni troppo gravi per poterlo operare. Matthew non riprese più conoscenza e rimase sempre in rianimazione. Morì alle 053 del 12 ottobre 1998 nell'ospedale di Fort Collins in Colorado. La polizia arrestò McKinney e Henderson poco dopo, trovando l'arma insanguinata, le scarpe della vittima e la carta di credito nel loro camion. Il processo dei due aggressori accertò che l'unica ragione per cui Matthew era stato aggredito e ucciso era il fatto che fosse gay. Il 29 ottobre 2009 il Presidente Obama ha promulgato una legge che punisce l'odio nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. Si chiama il Matthew Shepard Act. Andrea invece era di Roma e aveva 15 anni. Si è ucciso nella sua città il 22 novembre del 2012, l'anno scorso. Lo ricordiamo tutti come il ragazzo dei pantaloni rosa, perché aveva appunto dei pantaloni rosa e poi metteva lo smalto rosa. E aveva anche un quaderno, sempre rosa. Non sappiamo se fosse omosessuale oppure no. Sappiamo però che il suo comportamento non era quello giusto, quello che i suoi compagni di scuola si aspettavano da lui. Un ragazzo non mette lo smalto, non si veste di rosa. E infatti qualcuno sul muro della scuola aveva scritto «Non vi fidate del ragazzo con i pantaloni rosa, è frocio». Così Andrea si è stretta una sciarpa intorno al collo, si è lasciato andare ed è morto con i suoi 15 anni. Il giorno dopo qualcuno scrisse su un blog «Chiamatela pure omofobia se volete, anche se io ancora non riesco a capirlo questo termine. Omofobia, paura dei gay, paura di chi viene periodicamente pestato a morte, paura di chi subisce ogni giorno sotto la nostra indifferenza violenze psicologiche. A me più che paura sembra odio, perché l'odio è sempre più facile, perché l'amore deve essere corrisposto, l'odio no. Perché l'odio crea facilmente gruppo, si trova un bersaglio, gli si indirizza tutto il nostro odio contro, come se un odio condiviso fosse più giustificabile. Ecco, negli Stati Uniti oggi esiste il Matthew Shepard Act. Qui da noi in Italia no, nessuno ha ancora dato una legge che ricordi Andrea ai suoi pantaloni rosa, che aiuti a evitare che si ripetiano casi come il suo. La legge per quelli con i pantaloni rosa non è ancora stata varata, così come non è ancora stata varata una legge che protegga dall'odio le persone transessuali e transgender. Un gruppo talmente odiato in tutto il mondo da essere l'unica minoranza di cui io abbia notizia, che ha dovuto inventarsi una celebrazione, il T-Door, Transgender Day of Remembrance, per ricordare i propri morti, uccisi per ragioni di odio. Per chi ancora non lo sapesse, il T-Door si celebra ogni 20 novembre, tutti gli anni dal 99. È per questo che siamo qui questa sera, per cominciare il cammino che ci conduca finalmente ad approvare una legge non tanto contro l'omofobia, la paura dei gay, ma contro l'odio verso di essi. Una legge di civiltà in nessun modo ideologica che serva in primo luogo a dire al Paese che la nostra comunità nazionale ripudia ogni forma di odio, incluso quello omofobico e transfobico. Una legge che spieghi bene che l'omofobia e la violenza omofobica sono due cose ben diverse, perché l'omofobia, per essere tale, proprio come il razzismo, non richiede necessariamente la violenza fisica. In qualità di relatore di questo provvedimento voglio innanzitutto indicare il metodo con il mio collega Antonio Leone, che voglio subito ringraziare per la collaborazione leale e fattiva, ecco il modo in cui ci siamo mossi insieme. Nel lavorare questa legge abbiamo voluto in ogni modo provare a creare una legge di tutto il Parlamento, una legge che appartenesse a tutto il Paese come patrimonio collettivo e condiviso, non una legge di parte, né una legge la cui approvazione costituisse la vittoria di qualcuno e la sconfitta di qualcun altro. Si dice che la salute di una democrazia si misura dal modo in cui tratta le sue minoranze. Se guardiamo come l'Italia tratta le persone gay, lesbiche, bisessuali e trans, c'è da dire che la nostra democrazia è in un pessimo stato di salute. Per questo motivo, Leone e Dio, abbiamo voluto procedere ascoltando tutti, tenendo le preoccupazioni di tutti nella massima considerazione. Abbiamo cercato di agire con prudenza e con rispetto, maneggiando la nostra responsabilità di legislatori come si maneggia una materia fragile e preziosa, consapevoli della delicatezza estrema del nostro lavoro. Un tessuto delicatissimo, un ponte strettissimo, come uno di quei ponti fatti di corda, quelli che oscillano pericolosamente sopra le cascate nei film di Indiana Jones. Un ponte necessario a collegare due posizioni lontanissime, forse addirittura opposte. La posizione di chi invoca la propria libertà di coscienza e di pensiero è quella di chi chiede di poter vivere liberamente nella dignità e nel rispetto. Due libertà entrambe fondamentali, di cui una limita l'altra, ma anche due parti della stessa materia di cui è fatta la democrazia. Due parti intimamente legate, come lo yin e lo yang, inseparabili e fatte in modo di dare ciascuna vita all'altra. Una, però, molto young, maschile, solare, la libertà di pensiero. L'abbiamo vista agitarsi dalle pagine dei giornali, nei blog, nelle discussioni parlamentari, tanto nella Commissione Giustizia che nelle altre commissioni. L'altra libertà, quella di vivere senza essere offesi, privati del rispetto e picchiati, è una libertà molto più yin, molto più femminile, molto più lunare, più silenziosa, esile, aerea. L'abbiamo vista e sentita meno, ma è la ragione stessa per cui siamo qui. Perché senza la libertà delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans di vivere in pace, protette dall'odio, dalla violenza e dalla discriminazione, questa democrazia non è una democrazia. Due libertà, due diritti, due giuste pretese. Chi ne invoca una ricordi sempre che ha senso solo se esiste anche l'altra. Il principio di cui chiediamo l'approvazione da parte di quest'Aula viene introdotto nel nostro ordinamento non con una nuova legge, ma al contrario, come diceva Antonio Leone, quello che vi proponiamo di utilizzare è una legge che già esiste da molto tempo nel nostro ordinamento. E' la legge reale Mancino, una legge del 1993, la legge reale del 1975 e la Mancino del 1993. In buona sostanza chiediamo di equiparare l'odio basato sull'omofobia e la transfobia a quello che già da vent'anni viene riconosciuto nel nostro ordinamento, basato su motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, anche contro le minoranze linguistiche. In questo modo si rimuove l'irrazionale differenza che esiste nel nostro Paese, per esempio, tra l'apporre uno striscione gravemente razzista in uno stadio, il che può, almeno in teoria, configurare una condotta antigiuridica, e l'apporre il medesimo striscione, riportante le medesime parole di dileggio, però nei confronti delle persone omosessuali. Ebbene, in questo caso, questo striscione non è più un reato, si tratta di una libera espressione del pensiero, posto che la legge penale non prevede che l'omofobia sia una forma d'odio perseguita dalla legge, e posto che in una democrazia, in uno Stato di diritto, tutto ciò che non è vietato è, deve essere, permesso. Senza una legge contro l'omofobia e la transfobia, come ci ha confermato il prefetto Francesco Cirillo in un'audizione alla Commissione Giustizia, nemmeno l'OSCAD, che è l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori della Polizia, ebbene nemmeno l'OSCAD è in grado di tenere una contabilità delle aggressioni, dei pestaggi e delle violenze. Se non c'è una legge che qualifichi questi reati come reati d'odio, non ci sono nemmeno i numeri e non c'è neanche la possibilità di monitorare il fenomeno. Il testo approvato dalla Commissione è il risultato del raggiungimento di un punto di incontro di posizioni contrapposte, che, come ho ricordato, in alcuni momenti sono sembrate inconciliabili. La scelta della Commissione è stata quella di adottare un testo unificato delle diverse proposte e poi di approvare un emendamento dei relatori che ha rimodulato il testo finale. La disposizione centrale del testo unificato era l'articolo 3, che prevedeva l'estensione integrale della legge reale Mancino, una legge che dal 1993 estende la punizione contro il razzismo, anche la discriminazione e la violenza, ho detto addirittura, anche agli appartenenti alle minoranze linguistiche del nostro Paese. Ora, sono almeno vent'anni che il Parlamento prova a fare questa cosa, allargare la legge Mancino, e non riesce, perché ogni volta si trova una motivazione diversa, che dipende dal testo della legge. Per esempio, si è detto spesso che le parole identità di genere e orientamento sessuale sono parole che non hanno una loro definizione. Ebbene, questo non è vero perché sono parole che noi troviamo già nel nostro ordinamento. E, d'altro canto, l'obiezione di fondo in realtà è un'altra, e cioè il problema, il timore, che si vada a introdurre un reato di opinione. Ebbene, questo non è perché la legge Mancino, come ho detto, vige da più di vent'anni, e in questi vent'anni è stata applicata con grande prudenza, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione. Non è mai nessuno ha detto che si trattasse di un reato di opinione. Quindi viene da chiedersi anche perché questa preoccupazione sorga proprio oggi. In realtà, tanto per essere chiari, dichiarare che, appunto, come diceva Leone, che si è contrario ai matrimoni omosessuali o all'adozione deve essere, ovviamente, parte dell'opinione. Se così non fosse, appunto, chiunque si dichiari contrario allo Ius Soli dovrebbe essere perseguito ai sensi della legge Mancino, cosa che non è. Peraltro, voglio dirlo subito, la legge di cui discutiamo assolutamente non vuole limitare la libertà di pensiero. C'è quella frase famosa attribuita a Voltaire che dice «disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo». Ebbene, tutti i parlamentari dovrebbero, come dire, attenersi a questo principio e noi così faremo. So che sono emendamenti che sono stati presentati per chiarire questo punto. Io so che dovremmo dare assolutamente una risposta, un'approvazione a questi emendamenti. Mi faccio dire soltanto un'ultima cosa, Presidente. Ed è appunto che il timore che si ha e che questa legge sia, come dire, l'apertura a matrimoni gay, unioni e quant'altro. Io voglio subito rassicurare tutti. Qui questo non accadrà. Mi viene da dire anche purtroppo. Perché per poter passare a un riconoscimento dei diritti dovremo probabilmente avere una visione che tante volte, diciamoci la verità, nel nostro Paese la politica non ha. Cioè la visione di una politica che è laica, nel senso che rispetta la fede e i convincimenti di ognuno, ma che leggifera per tutti i cittadini. Questo noi purtroppo non siamo ancora riusciti a farlo. Concludo, onorevole, Scalfarotto. Concludo dicendo che, come diceva appunto il mio collega, noi abbiamo dovuto lasciare fuori, per poter consentire l'arrivo in aula di questo testo, l'aggravante che la legge Mancino prevede. Dico subito che è un compromesso che io ho subito, ho torto collo, solo per amore di questa legge, per fare in modo che arrivasse in quest'aula. Però deve essere molto chiaro che non è pensabile che noi approviamo una legge la quale è fatta per combattere le discriminazioni e quindi introduce una discriminazione, per cui difende in un modo più forte e più efficace le persone sulla base della loro origine etnica o della loro nazionalità o religione e molto meno le persone sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere. Finiremmo come nel Sudafrica dell'Apartheid, dove il numero dei diritti o la qualità dei diritti dipendeva dal colore della pelle, per cui i bianchi avevano i diritti, i mulatti così così e i neri non ne avevano. Allora, poiché la legge Mancino è fatta su due pilastri, se noi non approviamo entrambi i pilastri, cioè la creazione dei reati di omofobia e di transfobia e l'aggravante, noi abbiamo un edificio che non si tiene. Concludo dicendo soltanto che lascio agli atti la relazione nella versione più lunga che avevo preparato perché noi abbiamo avuto il dispiacere di sapere che il fatto che la nostra Commissione abbia votato col voto sostanzialmente unanime, ha votato contro la Lega Nord e si è stenuto il Movimento 5 Stelle per motivi opposti, diciamo abbiamo deciso di non tenere in considerazione il parere della Commissione a fare i costituzionali, so che è stata considerata una sorta di sgarbo istituzionale. Voglio garantire che così non è, le motivazioni sono tutte nella mia relazione, noi abbiamo rispettato molto profondamente il lavoro fatto dalla Commissione a fare i costituzionali, ma abbiamo anche difeso le nostre prerogative, abbiamo fatto un lungo lavoro di grande ascolto, di grande partecipazione su un testo penale che è appunto di competenza della nostra Commissione. Grazie, voglio soltanto augurare a tutti buon lavoro, so che sarà un provvedimento appassionante sul quale lavorare insieme, ne abbiamo molto bisogno. Grazie, grazie anche per la sintesi. Allora, ora facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.